Siringhe, macchie di sangue, escrementi. Queste immagini non si riferiscono ad una strada periferica di chissà quale metropoli. Siamo nella ridente, accogliente e centralissima via Vittorio Veneto ad Arezzo. Anzi, per la precisione, nel parcheggio che viene costeggiato da via Rismondo, che poi sfocia in via Veneto, dove peraltro c'è un plesso scolastico, insomma Saione. Una zona che rifiuta di essere etichettata come degradata e fa bene, anche perché il degrado, non è certo responsabilità dei cittadini e dei commercianti onesti che da anni la abitano e la frequentano. Le siringhe e le macchie di sangue sono piuttosto frequenti da queste parti, commenta un cittadino con rassegnazione e pensare che questa è una delle zone più belle della città. Come dargli torto? E allora ci chiediamo perché, di chi è la colpa, chi dovrebbe pagare, chi dovrebbe rimediare. Eppure le tasse le paghiamo e salate, commenta piccata, una signora che incontriamo per strada. Insomma, istituzioni, se ci siete, battete un colpo.